Marina è una giovane donna, come ce ne sono tante di giovani donne. Ha un marito, un figlio e un dubbio. Fra poco entrerà da questa porta, fra poco è adesso. Bentornata Marina. Bentornata chi? Che cosa? Chi parla? Sono io. Sì, no, sì, anche io sono io, ma sono anche Marina. Marina, tu sei tu e chi sei? Nervosette oggi, eh? Io sono la voce fuori campo e tu a vederti così occhio e croce si direbbe che hai bisogno di una vacanza. Quando avrò bisogno di qualcosa te lo dirò. Grazie. Ho bisogno di una vacanza. Ma dove? Come? Quale? Ma vederti così a occhio e croce io ti vedrei in una casa in montagna. Ci sono già stata per l'anniversario di matrimonio. Allora, a rivederti così a occhio e croce, ti vedrei in un bel villaggio al mare. Ci sono già stata per l'anniversario dell'anniversario di matrimonio. Però al mare mi piacerebbe andare, dai. Però non una di quelle cose tipo, ehi, andiamo al mare. No, una di quelle cose tipo, ehi, andiamo al mare. Marina è in cucina e ha una domandina. Non è che in crociera si mangia poco e ci si diverte troppo perché gli animatori ti animano anche quando tu non hai nessuna voglia di essere animata? O viceversa, non è che in crociera si mangia troppo e ci si diverte poco perché gli animatori hanno bisogno anche loro di essere animati? Marina ha ancora un dubbio. Ma quanto costa una crociera costa? Grazie.